Vogliamo parlare di api? Lo facciamo con Elisa Cardo, apicoltrice nell'azienda agricola Micromondi alle porte di Mondovì. Le abbiamo chiesto qual è la giornata tipo di un'apicoltrice. La giornata tipo di un'apicoltrice è molto lunga, si parte la mattina presto e si segue alla fine il ritmo della luce che c'è durante il giorno, quindi dal sorgere del sole fino a quando scende la notte, quindi varia da mese in mese. Normalmente si parte da casa, si fa il carico e poi si va in apiario. Noi che seguiamo anche le regine 4-5 giorni a settimana siamo impegnati anche nella gestione dei nucleati di fecondazione, nell'allevamento delle celle reali. Si lavora anche il sabato e la domenica perché le api purtroppo non hanno festività e chiaramente seguono dei ritmi della natura. Quindi è una giornata molto impegnativa, praticamente quasi sempre all'aria aperta, fisica, anche con uno sforzo fisico, ma che ti permette comunque di portare a casa anche delle soddisfazioni, proprio perché alla fine è una vita molto libera che uno fa. Sono anni molto difficili per la produzione del miele. Come si affronta la questione? Resistendo, resistendo con la speranza che qualcosa cambi, anche se è sempre più chiaro che i cambiamenti climatici che ci sono in corso probabilmente sono una strada non così facile da correggere. Servirebbe anche una politica molto più profonda e molto più impegnata a tutelare la biodiversità e questo non l'abbiamo ancora visto dalle associazioni di categoria, proprio agricola in generale, che alla fine tutelano degli interessi sempre un po' differenti e si dimenticano delle api e di tutti gli impollinatori, perché poi ci sono le farfalle, insomma, e tutti gli impollinatori selvatici che stanno avendo grandissime difficoltà a causa delle azioni dell'uomo. Quindi si resiste, la speranza è l'ultima a morire, anche perché il lavoro ci piace e non voglio mollare e poi perché probabilmente se ce la fanno loro in qualche modo si può dire che siamo salvi anche un po' noi.